A Sanremo è iniziato il conto alla rovescia perché con il recupero di mercoledì le gare nel girone A di Serie D sono tutte pari e in classifica. E duopolio Sanremese, Leco, Mattuziani e Lombardi saranno gli uni contro gli altri. Il prossimo weekend termometro di come arriverà la formazione di Lupo alla gara dell'anno è la sfida contro il Bra, formazione piemontese pronta a bussare all'uscio della zona playoff. I cinque risultati utili consecutivi degli uomini di Daidola e l'avvio convinto dei cunesi lo dimostrano anche se al primo affondo la Saremese va dal dischetto. L'intervento di Verniano su Gagliardi è in ritardo come un intercity nell'ora di punta tra Molino e il sesto gol in stagione. C'è però la traversa perché il centrocampista sardo alza la livella e il pallone sbatte sul legno. Orizzontale la Saremese carica, testa bassa ma è debole, il destro di Brugni da dentro l'aria così come appena larga la girata di testa di La Fauci. Pericoli che svegliano il bracco, il break di Massucco che non fa male a Maniz rischia di fare male e come lo stesso numero 11 con un difensore che si sostituisce a Maniz e soprattutto il diagonale di Casolla che affila il palo lungo. Passata la paura la Saremese torna a fare male o almeno a provarci perché in chiusura di frazione c'è il prodigio di Bonofiglio che tiene il risultato sullo 0-0. Il risultato è che non cambia nella ripresa perché Maniz al secondo miracolo in 10 secondi chiede la beatificazione e perché i tentativi a testa bassa dei padroni di casa non arrivano a buon fine. Ancora Maniz che vuole essere più che beato sul diagonale di Tuzza, la punizione di Tadè che non scende abbastanza. Poi il triplice fischio che farà affrontare alla Saremese il big match di domenica prossima da seconda in classifica lo 0-0 col Bla. E per ormai storia a Sanremo inizia la settimana più importante dell'anno e no, per una volta non stiamo parlando del festival della canzone italiana.